Allora buongiorno a tutti, questo brevissimo tutorial per spiegare un trucchetto per poter entrare in G Suite for Educational anche se sembra proprio che una volta messo il nome utente e la password il sistema ci faccia uscire e non ci permetta di entrare intanto io ho generato dall'account amministratore un utente prova che ho chiamato docente.prova.ic, questo è il nostro istituto dunque sono all'interno della mia gmail, ho un nuovo account Google, sono entrato, eccola qui, questo è l'email e mi dice appunto buongiorno docente, ho un nuovo account Google, l'organizzazione, il tuo istituto clicca qui per accedere, quindi noi accediamo, qui ci dice tutti i termini del servizio noi alla fine accettiamo dopo averli letti e qui inseriamo la nostra password eccoci qua andiamo a fare cambia password che è un cambio obbligato e qui a questo punto lui ci dice a quale di questi account vogliamo fare riferimento cioè dove noi vogliamo entrare, io dico che voglio entrare in docente.prova.icigalileicorsico.edu.it clicco ed ecco che mi porta di nuovo nello stesso posto, cioè non mi permette di avere accesso cosa fare? allora il nome è questo docente.prova.icigalileicorsico.edu.it la password l'ho scritta prima la cosa migliore da fare è chiudere chiudere Google riaprirlo e vabbè in questo caso io ho un bug qui, non so cosa sia successo, ma mi faccio una ricerca mi dice accedi, perfetto entro in accedi e metto docente.prova.icigalileicorsico.edu.it che è il mio nome, quindi il nome che voi avete ricevuto vado avanti metto la password e faccio avanti guardiamo un po' cosa succede mi riposta di nuovo ad accedi, cioè sembra proprio che non abbia accettato ma io che cosa faccio? vado in app di Google in Gmail accedo a Gmail e mi trovo all'interno della mail dell'account per il quale mi stavo iscrivendo cioè io mi sono iscritto mi dice però di accedere ma se vado nella Gmail lui mi porta in G Suite quindi una volta entrato qui e sono in G Suite perché lo vedo scritto qui G Suite con la D di docente.prova una volta arrivato qui io posso accedere a G Suite che cos'è G Suite? è un ambiente strutturato con varie applicazioni che mi permette di entrare in relazione con gli altri professionisti con cui lavoro nel nostro caso docenti e con gli alunni vado qui dove dice app di Google clicco ed ecco che io qui ho tutta la suite che userò per fare scuola quindi ho il mio account la mia Gmail subito Classroom per fare le presentazioni per fare Meet quindi per poter parlare per chattare per fare dei siti e ancora per creare gruppi di lavoro Hangout che è una sorta di Skype integrato per fare dei test per fare altri lavori insomma ok ecco questa è tutta la suite di G Suite tutto l'insieme di applicazioni che pian piano impareremo ad usare grazie ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti